Non conosce sosta la macchina operativa coordinata dalla regione toscana per contrastare il susseguirsi inarrestabile di incendi che quest'anno sono già divampati in quantità due volte e mezzo superiore alla media. Una macchina di cui fanno parte anche gli enti locali sul territorio e il cui cervello operativo è la sala operativa unificata permanente sui cui monitor i fronti di fuoco sono supervisionati 24 ore su 24. È da qui che appena arriva una chiamata si apre la linea diretta con il coordinamento antincendio regionale e con i presidi sul territorio in una rete che coinvolge anche un altissimo numero di volontari. Abbiamo 4200 volontari sull'antincendio boschivo, 500 operai forestali delle unioni dei comuni che lavorano in questo periodo in mariera molto intensa, 180 direttori delle operazioni, questi sì sono dipendenti della regione dei comuni e in questa fase abbiamo anche un impiego molto importante di mezzi. Tra i 600 mezzi a disposizione è anche una decina di elicotteri a cui nei casi più difficili si affiancano i Canadair nazionali richiesti dalla sala operativa. Il tutto in collaborazione con i vigili del fuoco e con i carabinieri forestali con cui il dialogo è costante soprattutto nelle situazioni complesse in cui gli incendi minacciano sia i boschi che i centri abitati e ora la regione pensa a nuovi strumenti di tutela del territorio con un obiettivo preciso. Legare la necessità della manutenzione del bosco a un'opzione, un'opportunità concreta di carattere economico alla quale dare gambe. Credo che sarà necessario un intervento di legge che disciplini tutta questa matassa e ci stiamo già lavorando. Il tutto per mettere un freno alla minaccia del fuoco che solo nel 2017 ha mandato in fumo un patrimonio boschivo sterminato.